Siamo in compagnia di Vito Rizzo che conduce il programma su Cilento Channel, eccomi sicuramente lo avrete riconosciuto e siamo qui per annunciare una puntata speciale di questo programma che andrà in onda proprio questa sera e replica anche nei prossimi giorni ma ve lo dirà Vito tra poco, dove si parlerà di cosa Vito e quali saranno gli ospiti? Allora al centro sarà la parola di Dio perché domenica 26 è la domenica della parola di Dio quindi la chiesa è chiamata a vivere un momento particolare di rapporto con le sacre scritture e quindi abbiamo pensato di realizzare una puntata speciale che andrà in onda questa sera all'orario classico le 21 e 15 poi in replica andrà sabato alle 12 e 15 e poi domenica alle 15 e 15 Quindi tre momenti diversi però nei quali andrà in onda questa puntata che dicevo avrà al centro la parola di Dio quindi sarà un momento vissuto insieme a tante persone che leggeranno dei passi della Bibbia Avremo in studio Don Bruno Lancuba che oltre a essere il parroco della parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Agropoli è un biblista ed è il direttore dell'istituto superiore di scienze religiose San Matteo di Salerno E poi avremo Biancarosa di Ruocco che ci accompagnerà anche con la lettura di alcuni passi del Magistero della Chiesa una puntata molto intensa ma molto bella perché ci porta ad avere una familiarità con il messaggio che Dio vuole farci vivere nella nostra quotidianità Bene quindi ricordiamo gli orari, i giorni, le repliche così i nostri dire spettatori non perderanno sicuramente questa importante puntata Sì allora ci dobbiamo preparare bene a vivere questa domenica quindi domenica 26 è la domenica della parola di Dio quindi questa sera venerdì alle 21 e 15 domani in replica quindi sabato alle 12 e 15 e domenica che è la giornata della parola di Dio andrà in onda alle 15 e 15 quindi è un bel modo per prepararsi bene a questa giornata speciale